Questo progetto in realtà rappresenta una collaborazione che ho con Illy, che è iniziato col progetto di questa nuova macchina del caffè, il Letta, che poi in seguito, come ormai succede nel mondo dell'architettura del design, il prodotto diventa comunicazione, il luogo di presentazione del prodotto è comunicazione. Abbiamo iniziato un'idea di flagship di Illy nel mondo e questo potrebbe essere uno dei primi esempi, molto milanese perché ha questo cortile interno e soprattutto ha queste stanze da caffè, cioè tipo caffè culturale, cioè l'idea è che le persone possono trovarsi e leggere anche un libro in queste stanze. Questo mi sembrava molto interessante proprio come idea di un caffè che crea questa qualità di ambiente. Il Letta è prodotto dal punto di vista tecnico straordinario perché è una delle poche macchine che non ha la cosiddetta caldaia ma soprattutto nasce per essere una macchina che ha una sorta di software che produce il caffè customised, cioè lo fa il caffè per te. Questo credo che sarà una grande rivoluzione nel mondo della distribuzione del caffè e delle macchine del caffè.